Secondo weekend, ottobre 2014, ci parte così. Grazie a tutti. Ottobre, secondo weekend 2014. Poca roba, però proviamoci. Stessa fungaia. Funghi di rimasuglie. Qua è il gambo, però. Scherzetto. Fuoco è conteso con tutti gli animali del bosco. Questo è un po' meglio. Bella bombetta. Una bombettina. Un bocciolotto. Insomma, ora qualcosa comincia forse a saltar fuori. Atenzione. Poi ci sono maniti fresche. Speriamo. 11 ottobre 2014. Un altro gambetto. Un altro gambetto. Bucce di fungo. C'è rimasto niente. Giambi. Mai gioca niente. Giambi. Non è giù con niente. Niente, praticamente niente. Siamo 11 ottobre 2014, funghi con la dedica, di meglio non li ho trovati, in che senso con la dedica, forse hanno una proprietà, sono due fondi con la dedica, non so se la sapete abbinare la dedica, di meglio Mark non l'ho trovato, Rossi.